È andata molto bene, i giudici hanno stabilito e hanno respinto praticamente il ricorso delle associazioni ambientaliste, con l'unica eccezione della Pavoncella e del Moreglione che in questo momento il prelievo venatorio è sospeso. E hanno sancito due aspetti fondamentali, uno che i piani faunistici provinciali approvati per legge sono validi a tutti gli effetti, il secondo aspetto hanno sancito che la valutazione di incidenza a cui la Regione ha sottoposto il calendario per le aree di rete Natura 2000 sono valide e quindi si potrà stare quest'anno più tranquilli per la caccia a Nisic che nelle ZPS. Quindi voi non siete andati a caccia inutilmente perché poi alla fine avete avuto ragione? Noi abbiamo perso delle giornate e dei selvatici importanti in preapertura, però i giudici del TAR nella Camera di Consiglio a cui noi abbiamo partecipato, Federcaccia, con i propri avvocati, una memoria tecnica importante, abbiamo avuto ragione e in questo senso noi stiamo valutando un'azione di responsabilità nei confronti di coloro che ci hanno fatto perdere o delle giornate o delle specie cacciabili in preapertura. Allora questo è un precedente anche, quindi per il futuro che cosa si può delineare? In questi ultimi 15 giorni, un po' di più questa settimana, quasi tutti i TAR d'Italia hanno respinto questi tipi di ricorsi. Dieci giorni fa la Calabria per primo, una sentenza simile a quella delle Marche pubblicata ieri, oggi il TAR della Puglia, proprio questa mattina, il TAR della Puglia ha respinto completamente il ricorso delle associazioni ambientaliste, concedendo anche la caccia a Pavoncello e Moriglioni, due specie che noi reputiamo importanti perché ci sono i piani di gestione dell'Unione Europea che consentono il prelievo di queste specie all'interno di un prelievo giornaliero e un prelievo massimo annuale.